Buonasera a tutti voi gentili telespettatori, un nuovo appuntamento con Prima News Focus, il nostro rotocalco di informazione quotidiana. Per la puntata di questa sera parleremo di un argomento importante per il nostro territorio, un vero e proprio salone che avrà luogo tra pochissimo e protagonista di questo evento sarà il vino, perché a marzo a Torino andrà in scena il Salone del Vino di Torino. Oggi ho l'onore e il piacere di avere in studio con me coloro che organizzano sostanzialmente questo evento, ci faremo raccontare davvero tutti gli aspetti che hanno portato all'organizzazione. Sto parlando di Luca Spadon, organizzatore del Salone del Vino di Torino, benvenuto. Grazie mille, molto piacere. A fianco a lui Sergio Arnoldi del settore sviluppo e valorizzazione filiere della Camera di Commercio di Torino, benvenuto. Grazie. Allora diciamo le due anime di questo evento che avrà luogo, lo ricordiamo, a Torino da sabato 4 a lunedì 6 marzo, in quattro luoghi simbolo di Torino. Quindi Luca Spadon, sarà un evento possiamo dire diffuso? Sarà un evento diffuso, era da tanto tempo che la città aveva bisogno di ospitare un Salone del Vino, tanti anni che non avevamo un appuntamento come questo in città, e quindi Torino torna a essere la casa del vino del Piemonte. Quattro location storiche, auliche. Il Museo del Risorgimento Italiano, quindi un posto che tratta la storia del nostro paese. La Cavallerizza Reale, un luogo simbolo anche della rinascita della città, che tra l'altro presto verrà ricostruita, risistemata, quindi riaperta al pubblico in una forma nuova. Palazzo Birago, sede aulica della Camera di Commercio di Torino, qua con noi, nostro supporter, organizzatore, sponsor e tutto. E Palazzo Cisterna, sede aulica invece della città metropolitana. In queste quattro location si svolgerà il Salone del Vino, con ospiti oltre 250 produttori, e la possibilità per tutto il pubblico che vorrà essere presente assieme a noi di degustare un buon bicchiere di vino piemontese. Ecco allora, andiamo a conoscere subito l'impegno della Camera di Commercio di Torino, perché ovviamente voi avete un ruolo importante. Innanzitutto riunite tutti quelli che sono gli imprenditori che si occupano, in questo caso, di vino. Quanto è importante dare loro la possibilità di farsi conoscere, di valorizzare la loro presenza e la loro funzione importantissima sul territorio? Perché oltre ad essere in sé produttori di un prodotto che viene consumato, sono anche produttori di cultura, anche turismo, perché ovviamente si viene in Piemonte anche perché si ha la spinta, per esempio, dell'enogastronomia. Certamente, sicuramente il vino è un fattore di attrazione, non solo a livello produttivo, ma anche a livello sempre più turistico, come diceva poco fa. E noi, come Camera di Commercio, sostenendo tutte le varie filiere produttive, abbiamo da anni inteso sostenere la produzione del vino nella nostra provincia. La provincia di Torino è una provincia che ha delle grandissime tradizioni di produzione nel mondo del vino, nella viticoltura, una viticoltura che spesso è eroica, se pensiamo alle valli della Val Susa, al Pinerolese, ma anche nel Canavese, abbiamo tante aree molto impegnative dal punto di vista produttivo, ma che sono un tesoro, hanno un patrimonio di vitigni talmente particolari, storici e autotoni che sono sempre di più ricercati, anche oggi, in un momento in cui i produttori si stanno orientando proprio verso un prodotto che attira molto i consumatori sempre più informati. Quindi, come Camera di Commercio, abbiamo alcuni progetti fondamentali che sviluppano e sostengono l'agroalimentare e l'enogastronomia. Tra questi voglio ricordare il progetto Torino DOC, che appunto proprio nel suo nome vuole esprimere questo concetto. Torino, sia come città ma anche proprio come territorio, limitrofo alla città perché produce vino, e la DOC, quindi un concetto di qualità che è certificato. Allora, entreremo poi magari nel dettaglio di alcuni di questi progetti, anche della vostra parte concreta in questo progetto, perché, dicevamo, il Palazzo Birago è anche sede del Salone del Vino di Torino. Ma torniamo un po' all'organizzazione. Ecco, questo Salone del Vino di Torino, in particolare, che taglio avrà? Un taglio divulgativo per tutti, soltanto settoriale per gli intenditori? Ecco, raccontiamolo un po' ai nostri telespettatori. La nostra ambizione è quello che sia un Salone aperto a tutti. Abbiamo pensato fin dall'inizio che servisse un momento accessibile a chiunque volesse semplicemente avvicinarsi al mondo del vino, quindi senza una conoscenza evidentemente approfondita, ma che avesse piacere di venire, conoscere il produttore, incontrarlo, discutere con lui, poter bere un buon bicchiere. Quindi sabato e domenica il core del Salone è questo, il confronto tra produttori e consumatori. Lunedì, come è giusto che sia, c'è un momento invece dedicato agli operatori, e quindi un momento importante per i produttori di vino, e dall'altra parte per tutto quello che è il mondo dei ristoratori, dei buyer, per avere un momento un po' più riservato, e invece lì sì, chiaramente, anche di approfondimento, e quindi anche con una taratura più business, evidentemente. E poi tutto il Salone, oltre alla parte, diciamo, di consumo, ha chiaramente una parte divulgativa, quindi una serie di talk, di masterclass, di momenti di approfondimento, di vario taglio, che permetteranno a chiunque vorrà partecipare, anche di ascoltare dei contenuti puntuali, e non solamente di bere un bicchiere. Ecco, tornando alla Camera di Commercio, Sergio Arnoldi, oggi come oggi, sappiamo, ci sono stati anche, voi fate anche proprio i conteggi, no? Di quello che vuol dire le varie filiere, gli imprenditori che ancora decidono di investire, no? Su una certa attività. E come sta la filiera del vino oggi? Dunque, sicuramente la filiera del vino è una filiera che alle volte anticipa dei processi, e comunque ha una certa capacità anche di, io dico resistenza, ma oggi si dice più resilienza, nel senso che sicuramente abbiamo... Quasi pazienza, dovremmo dire, secondo me. Ma la cosa non è così, voglio dire, lontana invece proprio dall'approccio che un viticoltore ha proprio nella sua vigna, perché è capace di resistere appunto a condizioni importanti, e devo dire, insomma, anche noi registriamo comunque un certo fermento, la filiera è stata in grado di superare il periodo drammatico del Covid, si è inventata anche nuove formule, anche in termini di logistica, di distribuzione, di vicinanza al consumatore, che era tecnicamente irraggiungibile, invece questo è stato un processo importante e che ha portato anche un'esperienza di cui oggi si fa tesoro. Però in generale, devo dire, c'è veramente una grande attenzione anche in termini di investimento, investimento in vigne, si inizia a vedere un certo interesse in zone che magari prima potevano sembrare più marginali, che invece, grazie anche a una viticoltura ha sempre più di territorio, e questo è un concetto veramente fondamentale nel mondo del vino, il legame tra territorio, vitigno, capacità, tradizioni, quello che i francesi chiamano il terroir, ma insomma, per noi e per gli viticoltori sono fondamentali. Quindi direi una forte vitalità e sempre più, come Camera di Commercio, registriamo anche quel ricambio generazionale che non è più però una scelta ultima, residuale, tra le possibilità di occupazione. No, davvero ci sono giorni. C'è una consapevolezza oggi nel decidere di portare avanti un'attività e non solo perché magari la si eredita per famiglie, per questioni familiari. Allora, Luca Spadon, invece, andiamo ad analizzare un po' nel dettaglio le quattro location, che cosa succederà in ciascuna? Così per avere anche una mappa concettuale del Salone del Vino. Giusto, per il pubblico, cercando di capire dove indirizzarsi. Beh, diciamo, i due luoghi fondamentali sono quella che è la Cavallerizza Reale e il Museo del Risorgimento. La Cavallerizza Reale avrà al suo interno la presenza della maggior parte di consorsi della Regione Piemonte, quindi chiaramente quelli che sono anche degli aggregatori, in qualche modo, nonché rappresentanti anche, non soltanto in qualità di produttori singoli, ma rappresentanti di una collettività e sarà evidentemente il centro principale della manifestazione. A seguire il Museo, dove abbiamo una collaborazione, tra l'altro, con un partner importante che è Gambero Rosso, e quindi un partner che ci affianca anche da tempo nel lavoro connesso al Salone, e saranno le due location principali in cui si potrà, chiaramente, da un lato bere un buon bicchiere e dall'altro assistere a una serie di presentazioni e di racconti ad opera dei produttori stessi, che presenteranno chiaramente in sale dedicate il loro vino. Avremo poi le altre due location in questo, da un lato Palazzo Birago, che sarà sede delle Masterclass, quindi per chiunque avrà voglia, sul sito www.elvinoditorino.it, vi è la possibilità di trovare la descrizione di tutte queste Masterclass e di poter chiaramente partecipare a queste. Mentre lunedì avremo, lo racconterà poi forse meglio, Camera di Commercio, ma avremo la possibilità invece di avere dei momenti anche convenistici e di approfondimento specifici. Palazzo Cisterna sarà finalmente, dopo tanto tempo, possibile visitarlo. Palazzo Chiuso, a lungo e troppo, ai cittadini torinesi, ai cittadini del Piemonte, sarà possibile visitarlo. Giardino fantastico, uno dei più belli forse che sono presenti in città e poi anche al suo interno ci saranno una serie di corner dove sempre poter degustare del vino. Veramente bisogna provare a vedere quel palazzo perché è straordinario. Assolutamente. Quando era aperta la provincia di Torino, noi lo frequentavamo molto, tante iniziative, tante conferenze che venivano organizzate all'interno, davvero suggestivo come luogo. Allora, quindi, passiamo la palla alla Camera di Commercio. Cosa ci sarà invece a Palazzo Birago? Cosa avete pensato per il grande pubblico? Sì, Palazzo Birago, ricordo appunto... Anche questo bellissimo, è un palazzo, devo dire, bellissimo. Certamente, lo dico perché lo vediamo quando apriamo pronto il palazzo ad iniziative e devo dire che il vino, anche in partnership con gli organizzatori del Salone, in passato l'abbiamo fatto e c'è sempre stato, come dire, il classico sold out, ma dettato anche da un interesse proprio di questo palazzo stupendo che vede però nel Piano Nobile una serie di sale che appunto daremo, come dire, in gestione per sabato e domenica, come si diceva, per le masterclass. Il lunedì partiamo la mattina con un convegno sull'enoturismo dove parteciperanno tutti gli attori che su questo argomento in provincia di Torino portano esperienze e portano anche riflessioni, soprattutto con un'ottica programmatica di continuare sempre di più a spingere verso un turismo consapevole e il vino sappiamo, come abbiamo detto, che è capace di attivare molta economia. Nel pomeriggio continuerà con un workshop proprio sull'enoturismo o più di elaborazione di contenuti con un documento che verrà in qualche modo realizzato. Alle 17 invece cambiamo argomento, ma sempre nell'ambito vitivinicola, presenteremo uno studio sul mutamento climatico in viticoltura in provincia di Torino. Questo grazie a dei partner importanti, noi come Cani Commercio chiaramente supportiamo questo studio, ma abbiamo la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori delle Alpi, l'ARPA, Piemonte, l'AIAB, quindi anche il concetto di sostenibilità, su un tema che è molto di interesse per tutti, a partire dal prodotto. Ecco, perché ovviamente i cambiamenti climatici impongono anche tempi diversi per gli agricoltori, per i viticoltori, con un'anticipazione, l'abbiamo visto spesso, alle vendemmie, quindi come effettivamente i cambiamenti climatici impatteranno su una produzione come quella vitivinicola. Ovviamente questi credo che siano aspetti importanti da analizzare. Allora, parlando in generale dell'organizzazione del Salone del Vino, ci sono anche dei momenti off nel Salone che esce da quello che è il luogo deputato al Salone e avete pensato anche a questi con tanti linguaggi diversi, tanti modi per raccontare il vino. Sì, pensavamo fosse giusto in qualche modo non avere soltanto il grande evento, per quanto non in una location unica appunto, ma in location diverse, ritenevamo fosse giusto avere momenti off, come viene detto, comunque di approfondimento diversi. Iniziamo in realtà dal 28 con una serie di appuntamenti nelle enoteche di Torino, degli appuntamenti che sono di degustazione e di abbinamento, quindi chiaramente in cui il cibo si abbina al vino. Non esiste cibo senza vino e non esiste neanche vino senza cibo, d'altra parte. E proseguiamo con una serie di appuntamenti molto diversi. Alcuni, per esempio, con la collaborazione della libreria Bodoni, che tratta invece argomenti che sono quelli della lettura e del connessa chiaramente al vino, altri che sono in ristoranti della città, anche qua, sempre con cene o degustazioni in abbinamento, altri, il venerdì, con la Notte Rossa Barbera, nelle Piole, per trovare un momento pop in qualche modo e quindi come una volta, con il vino all'interno delle Piole, con la musica e il cantor parato. Per dare la possibilità a tutti di godere del vino, perché lo sappiamo, vino è sicuramente conoscenza, cultura e formazione anche, ma vino è anche tradizione, anche goduria, diciamo, socialità, no? Possiamo dire così? Beh, ci mancherebbe. Se non fosse così, saremmo in una seria difficoltà in questo momento. Il vino è approfondimento, il vino è cultura, conoscenza del territorio, è promozione, ma è anche la voglia di stare insieme. Ecco. Allora, parlando di vino di filiere, come esce questo vino che produciamo fuori dai confini della regione, d'Italia e come va all'estero? Beh, su questo sicuramente a livello italiano, ma piemontese indubbiamente, abbiamo delle forti presenze in tutti i mercati internazionali, nel senso che il vino italiano effettivamente richiama il consumatore anche internazionale, proprio perché la biodiversità nei nostri vitigni, la tradizione, e la capacità proprio di creare un vino che viene associato anche a uno stile di vita nostro, che è lo stile di vita italiano, sicuramente favorisce la penetrazione nei mercati internazionali. Noi come Camera di Commercio chiaramente siamo presenti con le reti delle Camera di Commercio italiane nel mondo e anche con le corrispondenti Camera di Commercio mondiali dei vari paesi, e quindi ogni volta che c'è qualche produttore che ha interesse ad andare all'estero, cerchiamo attraverso dei progetti specifici, per esempio ne cito uno che si chiama Savor Piemonte, che portiamo avanti come settore internazionalizzazione, la possibilità di preparare prima i nostri imprenditori ad affrontare dei mercati che a volte sono anche difficili. E poi diamo un sostegno attraverso il nostro laboratorio chimico, oltre in termini analitici, perché per passare le dogane bisogna avere dei dati analitici credibili e autorevoli, dopodiché diamo anche un aiuto per creare banalmente le etichette, vedere le varie normative e sostenere. Quindi il mercato del vino deve presidiare sicuramente il mercato locale, perché non si può andare all'estero se non presidi il mercato locale, ma guardando all'esterno e ai confini non solo europei ma anche internazionali, sicuramente abbiamo delle buone performance e alcune aziende, soprattutto in certe aree del Piemonte, hanno la maggior parte del fatturato spostato sull'estero. E dov'è maggiormente apprezzato? Quali aree geografiche? Se abbiamo qualche dato? Certo, allora ci sono due, si parla di vecchio mondo e nuovo mondo, noi in realtà per un vecchio mondo intendiamo i mercati europei e tradizionalmente i nostri mercati interessanti sono la Germania, il nord Europa, soprattutto per i rossi, abbiamo i cugini francesi con i quali combattiamo sempre un po', ma sicuramente entrambi tra noi, la Francia e la Spagna, insomma rappresentiamo quella fascia mediterranea che più produce e per cui i paesi del nord in qualche modo europei sono molto interessati. Però andiamo assolutamente negli Stati Uniti, anche nei mercati asiatici, chiaramente ci sono modalità e canali di penetrazione diversi, ma devo dire che come attraverso tutte queste reti, che non sono solo quelle delle Camere di Commercio, ma in buona parte lo sono anche, riusciamo a posizionarci sempre bene mantenendo quella qualità che ci contraddistingue. Quindi sono interessanti poi le varie statistiche perché ci dicono magari che noi tante volte in volume siamo i primi in certi paesi e in valore magari non siamo i primi perché siamo superati dai francesi, però se guardiamo i volumi, perché loro riescono a far apprezzare forse di più su certe, pensiamo su certe produzioni come lo champagne chiaramente, ma in volume sicuramente superiamo spesso i nostri cugini d'oltre albe. Bene, siamo alla conclusione di questo spazio e vorrei affidare a Luca Spadon l'ultimo saluto e invito magari i nostri telespettatori. È molto facile, vi aspettiamo il 4, 5 e 6 di marzo al Salone del Vino in queste 4 location straordinarie, la Valerizza Reale, Museo del Risorgimento, Palazzo Birago e Palazzo Cisterna e a partire dal 28 in tutti quelli che sono gli appuntamenti off. Trovate tutto sul sito www.salonadelvino.it Bene, io ringrazio Luca Spadon, organizzatore del Salone del Vino di Torino e Sergio Arnoldi, settore sviluppo e valorizzazione filiera della Camera di Commercio di Torino per essere stati con me, per avermi aiutato davvero a raccontare questo evento che continueremo a documentare con le nostre telecamere. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi auguro una buona continuazione e ci vediamo alla prossima puntata di Prima News Focus. Arrivederci. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi auguro una buona continuazione